ciao amici value investor nell'ultimo anno molte aziende in hype o meglio lo erano fino a pochi mesi fa hanno la caratteristica di aver aumentato in maniera molto importante le azioni in circolazione la cosiddetta diluizione delle azioni però mi sembra che molti investitori non abbiano ben chiaro quale sia il problema di questo fenomeno quindi questo video voglio chiarire come la share dilution può distruggere il vostro investimento quando un'azienda si quota in borsa l'azienda viene divisa in un numero di azioni un numero di quote e quando voi acquistate le azioni che rappresentano queste quote diventate di fatto proprietari di questa azienda proprietari di una fetta di questa azienda quindi se un'azienda ad esempio viene divisa in mille azioni e voi ne comprate 100 siete proprietari al 10 per cento di quell'azienda avete il 10 per cento di quell'azienda ma cosa succede se successivamente all'ipo l'azienda immette nuove azioni sul mercato e quindi supponiamo che ad esempio venda 500 nuove azioni succede che la vostra quota all'interno di questa azienda passa dal 10 per cento al 6,7 per cento e perché questa diluzione delle azioni dovrebbe essere un problema immaginate che questa azienda dove siete azionisti abbia un utile netto di 100 mila euro e su questi 100 mila euro avendo voi 100 azioni quindi il 10 per cento dell'azienda avete diritto a 10 mila euro quindi avete un utile per azione di 100 euro ma se in seguito alla diluizione se in seguito alla vendita di queste 500 ulteriori azioni alle mille iniziali la vostra quota passa dal 10 per cento al 6,7 per cento 6,66 per la precisione succede anche che voi avete diritto non più a 10 mila euro ma a 6.666 euro quindi il vostro utile per azione è passato da 100 euro ad azione a 66 euro e 66 centesimi quindi la diluizione è principalmente un problema per questo perché l'utile deve essere distribuito su un maggior numero di azioni quindi l'utile per azione diminuisce e se l'utile per azione diminuisce anche il valore di ciascuna azione diminuisce e se il valore dell'azione diminuisce diminuirà anche il prezzo in borsa di queste azioni perché sappiamo benissimo che nel lungo termine il prezzo di un'azione segue il suo utile per azione altro esempio se l'azienda aumenta gli utili da 100.000 a 150.000 euro ma il numero di azioni passa da 1.000 a 1.500 il vostro utile per azione non cambia nonostante l'azienda abbia aumentato gli utili rimane di 100 euro per azione oppure peggio ancora nel caso di aziende molto growth queste solitamente per finanziare la loro crescita molto elevata vanno a diluire in maniera molto importante volte addirittura vanno a raddoppiare il numero di azioni in circolazione da un anno all'altro quindi nell'esempio in un solo anno possono far passare il numero delle azioni da 1.000 a 2.000 in questo caso se gli utili aumentano da 100.000 a 150.000 l'utile per azione addirittura diminuisce da 100 a 75 euro quindi le vostre azioni stanno perdendo di valore nonostante l'azienda abbia aumentato gli utili ho visto purtroppo alcuni youtuber anche diciamo molto seguiti sostenere che la diluizione fosse una cosa positiva perché va ad aumentare la market cap siccome la market cap è data dal prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di azioni quindi se aumenta il numero di azioni in circolazione aumenta la market cap ma questo va in contrasto con quanto detto prima perché essendo il valore di un'azione determinata dall'utile per azione se aumenta il numero di azioni diminuisce l'utile per azioni quindi anche il prezzo quindi aumenteranno sì il numero di azioni in circolazione ma diminuirà il prezzo dell'azione infatti nel discount di cash flow quando abbiamo calcolato il valore dell'equity quindi abbiamo sommato i flussi di cassa futuri e scontate al presente a determinato tasso di sconto poi abbiamo aggiunto il cash abbiamo tolto i debiti abbiamo ottenuto il valore dell'equity questo valore lo andiamo a dividere per le azioni in circolazione quindi più azioni ci saranno più ovviamente il valore intrinseco per ciascuna azione è basso ma perché le aziende emettono nuove azioni ci sono varie ragioni la principale è sicuramente perché hanno bisogno di capitale per finanziarsi e generalmente le aziende che mettono nuove azioni in modo importante sono quelle che fanno pochi profitti o addirittura sono in perdita e quindi l'unico modo per finanziarsi è quello di mettere nuove azioni e riescono a farlo in modo costante e importante nel momento in cui sono spinte da un bel hype sul mercato quindi sono azioni calde su cui gli investitori hanno delle ottime prospettive per il futuro e sono disposti a comprare azioni di aziende in perdita ma lo share dilution è sempre negativo no perché dipende da cosa ci fa l'azienda poi con questi soldi perché se li investe in modo profittevole magari va a migliorare la marginalità dell'azienda e quindi ad aumentare l'utile per azione perché no immaginiamo che questa azienda riesca con questi soldi a comprare un brand super famoso che le permetterà di vendere i suoi prodotti ad un prezzo molto più alto e quindi ad aumentare gli utili se l'azienda ad esempio aumenta i profitti da 100 a 200 mila euro con le azioni che aumentano da 1.000 a 1.500 l'utile per azione passa da 100 a 133 euro ad azione quindi in questo caso l'emissione di nuove azioni potrebbe essere positiva quindi dipende molto dall'utilizzo che ne fanno di questi soldi i manager per capire se la diluzione è una cosa positiva o negativa quello che non mi piacerebbe vedere è innanzitutto un management che aumenta i propri stipendi nei momenti in cui va ad immettere nuove azioni sul mercato è un po come se avessi un'azienda gestita da un manager l'azienda perde soldi quindi il manager mi chiede di fare entrare nuovi soci però lui allo stesso tempo si aumenta lo stipendio è una cosa che non sta bene seconda cosa non vorrei vedere aziende che utilizzano questi soldi semplicemente per incrementare le vendite senza occuparsi di incrementare i profitti perché in questo caso ci potrebbe essere bisogno di una nuova diluizione delle azioni e poi in generale io credo che lo share dilution spesso possa essere un pretesto per il management per essere meno efficiente perché tanto se vado a dilapidare il capitale dell'azienda posso sempre mettere nuove azioni è un po il contrario delle aziende aristocrats che ad esempio ogni anno devono aumentare i dividendi quindi per fare questo il management è costretto ad avere una gestione molto efficiente dell'azienda aumentare gli utili e diminuire i costi in modo da non far salire troppo il payout ratio e poter aumentare i dividendi con grande facilità quindi la diluzione può essere un grosso campanello d'allarme e dobbiamo valutare attentamente come il management impiega queste risorse perché potrebbe veramente distruggere il valore per gli azionisti ma sembra che molti investitori non se ne rendano conto allora ragazzi fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un like scrivete nei commenti se avete in portafoglio aziende del genere che diluiscono le azioni se ve ne preoccupate o se secondo voi non è un problema e con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao da davide grazie